cari amici e sventurati tifosi viola era un po che non realizzavo un video fu la bruttissima imbarazzante vergognosa prestazione contro il torino che è valso ovviamente la sconfitta in casa per mano del torino che era dal 76 e non vinceva a firenze il giorno dopo non ho neanche fatto il video perché proprio non riuscivo più a parlare di fiorentina per essere lucido sono passati un po di giorni la cosa non mi è passata non so voi per oggi è il giorno di sirigu del salvatore è arrivato salvatore in porta seguite gli amici di space vi lascio qua sotto il link in descrizione ragazzi se vi va ovviamente seguite anche me e nei miei social trovate tutto in descrizione oggi come vedete la copertina è dedicata al nuovo acquisto della fiorentina che arriva ovviamente dal napoli preso a titolo definitivo fino alla fine della stagione con opzione di rinnovo del contratto fino al 2024 all'incovercio gollini invece va ovviamente a napoli la fiorentina ha comunicato di aver rescisso il l'accordo di prestito con l'atalanta per quanto riguarda gollini in porta quindi via un portiere per un altro portiere indubbiamente sicuramente era un'operazione di mercato da fare perché gollini non si è mai integrato l'ha fatto vedere anche in coppa italia con la samandoria quindi sicuramente arriva un portiere che forse parte alla pari di terracciano non lo so sicuramente ha più esperienza a livello internazionale terracciano sicuramente in porta arriva un portiere in là con l'età siamo d'accordo però sicuramente arriva un portiere ora cioè mancano cinque giorni alla fine di gennaio mancano cinque giorni alla fine del calcio mercato cioè a noi ci manca cioè nel senso a noi ci manca la punta proprio hanno preso il calciatore dall'altra parte del campo cioè l'operazione può essere anche giusta però per me c'era un'altra priorità ora perché mi viene a ridere perché c'è anche lo stop a brecalo ora fermi non sono arrabbiato che non venga brecalo mi scappa a ridere perché sembrava fatta poi c'è il dietro front dovuto probabilmente al fatto che forse sotto sotto non ci serve brecalo non serve anticipare l'arrivo di questo calciatore che va a scadenza di contratto a fine anno ora sembra che su di lui ci sia l'udinese ci sia la dinamo zagabria non lo so un giocatore che non gioca da ottobre un esterno d'attacco perché non è una punta per una cifra di 3 4 milioni e sembra bloccata la trattativa per via delle alte commissioni e dei dubbi che sono sorti su un calciatore che non gioca da ottobre ma questi dubbi un tu ce l'avevi tre settimane fa cioè la situazione non era cambiata su brecalo non giocava da ottobre tre settimane fa non giocava da ottobre oggi cioè nel senso stop ora il problema è che i nomi che leggo là davanti mi scappa da un po da ridere perché il problema ragazzi non è tanto prendere o meno una punta a gennaio ma secondo voi a gennaio ma che punta mai potrebbe arrivare cioè a gennaio qual è quella squadra se visto la punta che è arrivata a gennaio l'anno scorso per sostituire Vlaovic Piontek e Cabral Piontek e Durao sei mesi Ciao Erizzitelli e Andes e alla Salernitana per l'amor di Dio Però da noi qualche gol l'aveva fatto Cabral 15 milioni più 3 di bonus quasi 18 milioni Per avere Cabral A gennaio Il problema è che questa parte dell'attacco doveva essere gestita agosto Doveva essere gestita nel calcio mercato estivo E non mi dovete andare a prendere Jovic Un'altra seconda punta Perché anche Cabral comunque al Basilea qualcuno a fianco ce l'ha sempre avuto Allora o tu mi dici Cabral e Jovic giocano insieme Allora posso anche capire il perché tu abbia fatto un'operazione di mercato così ad agosto Ma comunque vada dovevi pigliarti un'altra punta Ma adesso a te la punta Il salvatore reale della patria Cioè quello è la butta in porta Ma chi te lo regala? Ma chi te lo dà? Ma chi te lo dà? Chi vai a prendere un panchinaro che non gioca nella squadra attuale Cioè tu pretendi che quel giocatore, quell'attaccante ti possa risolvere i problemi là davanti in attacco Perché secondo te una squadra ti dà il suo attaccante titolare a gennaio Vai a prendere all'estero? Va bene, perché all'estero funziona in maniera diversa? Cioè l'attaccante titolare viene ceduto a gennaio per rinforzare una squadra italiana? Cioè tutte le punte che tu vai a prendere o non giocano O sono sostituti O sono mezzi infortunati O rientrano dagli infortuni Cioè non si fa così Questo è un fallimento tecnico Bello e buono Burdisso, Pradè, Angeloni, caposcouting Tutte a casa È un fallimento tecnico enorme Ora sembra che la Fiorentina quindi possa anche non fare niente là davanti Cioè l'idea è quella di recuperare Cabral Recuperare Jovic e giocare con González ad avanti Cioè questa è l'idea che secondo me c'è In Viale Manfredo Fanti Questa è l'idea Perché non ne ho altre Cioè non mi viene in mente nient'altro Ve lo giuro ragazzi Anche perché se tu vai a prendere Belotti Cosa che io prenderei domani mattina La Roma Te lo fa pagare Non te lo regala Io lo prenderei domani mattina Belotti ragazzi Anche perché gira che ti rigira L'attaccante in questo momento Che potrebbe far comodo alla Fiorentina È Belotti Mettetevelo in testa Perché gli altri nomi Henry, Serrotto Parliamo di Petagna Shumuro dopo Chi vogliamo parlare Andiamo a pigliare Gabbiadini Ragazzi Bonazzoli Sanabria L'unico Veramente che tu in qualche modo È Belotti Ma la Roma Te lo fa pagare Sei in ritardo Sei in ritardo Proprio mentalmente Non c'è stata organizzazione Sicuramente italiano Ha le sue colpe Però le uova sono queste Italiano ha le sue colpe Perché per me col Torino Inizia Gonzales Inizia Gonzales Non hai 90 minuti Nelle gambe Non me ne frega niente Gliene fai fare 60 E poi lo levi Ma inizia Gonzales Non inizia Guamè E non si gioca con Saponara Con una squadra fisica Come il Torino Saponara E lo ridiciamo Da ormai Decenni È un giocatore Da secondo tempo Dagli ultimi 30 minuti Con squadre Stanche Allora sì che Saponara Può essere utile Perché te la mette lì Ma con delle squadre A pieno regime Saponara Te lo mangia Qualsiasi giocatore In Serie A Te lo mangiano Quindi italiano C'ha le sue colpe Ma la dirigenza Che poi commesso Dica Io mi affido Agli uomini di calcio Pradè e Burdisso Parlano di calcio Ragazzi Cioè non è che ieri mattina Vendevano bomboloni E brioche Ok Ma secondo me Pradè Non è più Lui non ha contatti più Con nessuno Secondo me Perché io non me lo posso spiegare Come gli altri direttori sportivi Riescono a fare Delle operazioni di mercato E quelli che fa Pradè Sono fallimenti Perché non me lo spiego Non me lo spiego Quindi io non ce l'ho con Sirigu Per l'amor di Dio Sono contento Che sia arrivato Un portiere d'esperienza Come Sirigu Ci mancherebbe altro Sicuramente Creerà dualismo con Terracciano Sicuramente Secondo me Sirigu Tra i pali Può far bene Ma ragazzi Il problema È che Con questa Verve Che ha questa Fiorentina A te tu va fuori In Coppa Italia E in Conference League Che ne mette un'accorci Che ne mette un'accorci Comunque Questo è quanto Ragazzi Non so voi cosa ne pensate Non so Non ho Io in questo momento Non so più cosa dire Non so più cosa pensare Ve lo giuro C'ho uno sconforto Pazzesco Che poi mi hanno scritto Tanti tifosi del Torino Dicendo Eh comunque La state ingrandendo Non è che avete affrontato Una squadra Per l'amor di Dio Io rispetto il Torino Cioè Non sto dicendo Che il Torino Era una squadra Da Doveva perdere Per forza A Firenze Per l'amor di Dio Però Devono anche capire Che io tipo Fiorentina Quindi per me La Fiorentina Deve vincere contro Tutte le squadre E il Torino Con tutto il dovuto rispetto Questo Torino Per me Con una Fiorentina Vista In altre occasioni Secondo me Il Torino Lo può battere Poi bravo il Torino Perché il Torino Ha fatto una signora partita Perché la Fiorentina Comunque Gliel'ha permesso Perché la Fiorentina A primo tempo Non è mai scesa al campo Cioè Era imbarazzante ragazzi Imbarazzante E l'Italiano Comincia a essere imbarazzante Cioè Prima si creava Poi lui dice Si crea tanto Si crea tanto Ma andò t'ha creato Nel primo tempo A Italiano T'ha fatto un tiro Porta con qua Ma andò t'ha creato Ma che t'ha visto Ma che t'ha visto L'hanno preso Una travessa Un gol all'altro Per fuori gioco E gol loro E le riparati E le riparati Terracciaro Ma che t'ha visto L'Italiano Cioè questo Mi viene da pensare Cioè prima Non dice Crea tanto Non t'ha creato nulla Con il Torino T'ha smesso anche Di creare Tu stai facendo Un possesso falla sterile Allora Se devo fare Possesso falla sterile Preferisca Per Iachini In panchina Se devo fare Queste figure Voglio Iachini Perché perlomeno Iachini Sotto quel punto di vista Sa fa il suo Ma se dobbiamo Proporre il gioco Dobbiamo essere Cioè Comunque ragazzi Non è inutile Perché tanto si ritorna Sempre lì Oggi è arrivato Siri Ufficiale Nuo portiere della Fiorentina Primo Secondo Quello che sarà Brecalor Non verrà sicuramente A Firenze Della punta Tutto tace Secondo me La Fiorentina Non farà altre operazioni Di mercato A meno che Veramente non mi sorprenda E arriva E arrivi una punta Che a questo punto L'unico che mi viene Veramente in mente Che potrebbe voler Cambiare aria E giocare da titolare È Belotti L'unico che mi viene in mente Ragazzi Ci vediamo Nei prossimi giorni Forse realizzerò Un video Riguardo Alla situazione Della Fiorentina In generale E poi ovviamente Andremo a parlare Del giorno prima Di Lazio Fiorentina Che a me Solo dire Lazio Fiorentina Dopo le quattro pappine Che ha rifirato al Mila A me Mi viene già da ridere Comunque Forza Viola Conta solo la maglia Conta solo la maglia E i colori viola E i colori viola